Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti a questo nuovo video. L'Argentina passa ai mondiali, il Cile resta a casa. Dunque l'Argentina ha giocato in Ecuador e è andata sotto. Devo dire la verità, quando ho sentito l'Argentina andare sotto, credo che un po' di paura per l'Argentina l'avessero tutti, nel senso che andare sotto lì non è proprio il massimo della vita, il campo era ai limiti della praticabilità, l'Equador è riuscito a passare bene in vantaggio. Sembrava avere l'Equador in mano le sorti di tutto insomma. Però poi viene fuori quella cosa che non si può improvvisare. Leomessi si scatena, tre gol che portano l'Argentina al Mondiale. L'ha vinta lui, l'ha portato lui l'Argentina. Quando si dice che è un giocatore che non fa differenze nazionali si dice una grande boiata. Perché è vero, è vero che lui magari non ha ancora vinto trofei con l'Argentina. Però se io lo vado a paragonare con uno di quelli con cui viene paragonato, cioè Maradona, in Argentina Maradona dopo un gran mondiale, quello che vinse poi per rendere l'idea, fece una finale pessima e Borrucciaga fece una grandissima partita. Maradona limitò a fare un assist davanti al portiere e Borrucciaga lo infilò e l'Argentina vinse quel mondiale. Al contrario invece di Messi che fece un gran lancio, anzi due grandi lanci, uno per Higuain e l'altro per Palazzo ed entrambi davanti al portiere sbagliarono. Borrucciaga non sbagliò. Questa credo che sia la differenza principale tra Messi e Maradona in nazionale. Non è nient'altro, considerando anche che Messi ha vinto anche l'Olimpiade e quindi questa viene sempre sottovalutata. E ieri ha fatto vedere tutto il suo valore anche nazionale con tre gol molto belli anche. Il secondo c'è un errore abbastanza grossolano del difensore dell'Equador, però lui prende la palla, la recupera e va a tirare una sassaiola sotto l'incrocio. Bel gol veramente. O contrario, se l'Argentina ride, il Cile piange. Il Cile piange perché perde 3-0 col Brasile, poteva anche perdere 1-0. A un certo punto la Colombia stava vincendo col Perù in casa, quindi sicuramente anche una sconfitta andava bene al Cile. Il pareggio del Perù obbligava il Cile a perdere con un gol di scarto. Il secondo gol, quello di Gabriel Jesus, ha spaccato completamente la testa dei cileni, nel senso che sono andati fuori, non sono più stati nella partita e poi è arrivato addirittura il gol su un calcio d'angro a favore del Cile. Tutti dentro, compreso il portiere, palla a Gabriel Jesus che si è fatto a metà campo praticamente con la porta completamente spalancata e dato a insaccare il 3-0. È un 3-0 che butta giù il Cile, che non va neanche ai play-off ed è una cosa un po' sorprendente perché insomma il Cile è due volte il campione di Coppa America, secondo me fa molto rumore questa eliminazione, l'avrebbe fatta anche quella dell'Argentina. Diciamo che questo Messi ha un po' oscurato la notizia del giorno che è l'eliminazione del Cile, che non era assolutamente preventivabile perché al di là di tutto possiamo anche voler bene gli amici del Perù, però non mi sembra che il Perù abbia una squadra così forte da arrivare davanti al Cile. Detto questo, dunque gli spareggi passano intanto direttamente Brasile, Uruguay, Argentina e Colombia. Agli spareggi ci va il Perù che affronterà la Nuova Zelanda. Nell'altra parte degli spareggi saranno Australia contro Honduras Australia. Quindi questi saranno gli spareggi e dunque io credo che Perù e Australia siano strafavorite, però vedremo insomma i spareggi cosa diranno. Intanto quello che si può dire è che Messi e Ronaldo vanno in mondiali e molti l'avano messo in dubbio questa cosa. Loro ci saranno, altri purtroppo no. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video.